Ciao a tutti ragazzi, speravate di essere liberati di me e invece no. Oggi apre finalmente l'Apple Store Le Befane a Rimini, quindi dato che ha questo fantastico nome non poteva mancare la Befana per l'antonomasia di nome Sara Canducci. Oggi c'è vento, quindi purtroppo non potrò arrivare sul posto Biascoppa, ecco perché ci verrà a prendere un fan di iPhone Italia, Marco D'Alfratto, lo ringraziamo veramente per il disturbo. 1, 2, 3, si parte! 1, 2, 3, iPhone Italia! Sono le ore 7-5 del mattino, come vedete la fila supera già le 50 unità, sono tutti quanti contenti anche perché stanno facendo colazione, grazie Apple sei l'unica che fa una cosa del genere, per cui adesso aspettiamo e tra poco nuovi video con notizie dallo store. E vediamo! Grazie! Il servizio Apple, cosa vuol dire il servizio Apple? Vuol dire che ha finito il caffè. Alla salute, grazie! Ci vediamo dopo! Ciao!